Mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Una promessa da Dio al popolo ebraico che sta vivendo una cosa che noi non possiamo immaginare. Ma alcuni di noi oggi anche stiamo vivendo una cosa che gli altri non potrebbero immaginare. Ma queste promesse come erano per loro sono anche per noi. Se siamo in Cristo Gesù e noi sappiamo dalle promesse che Dio ci dà anche in questa scrittura che quando pregheremo Lui ci esaudirà. Questa è promessa di Dio per darci la speranza. Mi cercherete? Come molto spesso sembra che lo cerchiamo ma non lo troviamo. Qui dice mi cercherete e mi troverete. Quando mi cercherete, ascoltate perché è importante, se vogliamo cercarlo e trovarlo, allora quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Non possiamo pensare se cerchiamo Dio soltanto facendo una preghiera una volta ogni tanto e poi tutto il resto della nostra vita non pensiamo nemmeno a Dio, ma soltanto in un momento di difficoltà, allora preghiamo Dio aiutami, aiutami. Però lo facciamo anche molto spesso non credendo nemmeno che ci stia ascoltando. No, noi lo dobbiamo chiedere, dobbiamo cercarlo con tutto il nostro cuore. Ed io mi lascerò trovare da te. Questo è Dio che ci sta parlando. Dio. 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 Dio.